ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video in qualche commento di qualche video precedente mi avete sgridato perché non abbiamo mai parlato di differenziali rialmo automatico salvavita rialmo automatico e avete ragione forse l'ho dato per scontato perché potrebbe sembrare una cosa semplice sostituire un salvavita con uno a rialmo automatico chiaramente per chi è bravo a fare le pizze o fare il contabile non è una cosa così automatica capire come comprare un dispositivo e andarlo a cambiare in un quadro elettrico premesso che non potreste farlo perché nel quadro elettrico potrebbe mettere mani solo l'elettricista abilitato se proprio volete fare una cosa nel fai da te perché non trovate un elettricista perché non vi fidate perché comunque siete consapevoli di quello che state facendo in questo video vi faccio vedere che è una cosa secondo me alla portata di tutti prima di andare avanti siccome faccio cose utili come questa vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale che non vi costa niente vi costa un click nessuno vi chiederà mai nulla nessuno vi manda niente a casa ma mi dareste una grossa mano a far crescere il canale grazie adesso andiamo avanti col video vi faccio vedere un modello che ho comprato io ce ne sono molti io di solito prendo questo che della schneider è una marca con cui mi trovo bene i riarmo li fa la btc no li fa la ghevis li fanno un sacco di marchi dovete solo fare attenzione quando lo comprate perché nel vostro quadro sicuramente avrete un differenziale di protezione che può essere da 16 25 32 ampere dovete un attimo vedere quanti ampere ci sono scritti quindi troverete appunto da 16 in su normalmente poi dovete fare attenzione perché potreste trovare un differenziale puro o un magneto termico differenziale un salvavita cosa cambia cambia che differenziale puro non ha la parte magneto termica e in alcuni quadri elettrici lo montano a monte quindi come principale e poi sotto mettono solo i magneto termici nella maggior parte dei casi che avrete dei centralini più semplici dove c'è un magneto termico differenziale quindi che ha la parte magneto termica la parte differenziale o assemblate insieme o che fanno parte dell'unico dispositivo ce n'è vari tipi piuttosto se avete dei dubbi e non sapete cosa avete nel quadro elettrico mi scrivete la mail dell'assistenza assistenza chiocciola massidattoli.it magari ci metto qualche giorno in qualche caso qualche settimana a rispondere perché ne dicevo tantissime e mi dite guarda io nel quadro questo che cos'è cosa devo comprare perché se avete un differenziale comprate un differenziale a riarmo se avete un salvavita magneto termico differenziale comprate un salvavita a riarmo costano parecchio devo dire che fino a poco tempo fa costavano meno ma adesso sono diventati molto più cari ok che aumenta tutto ho notato proprio che il riarmo automatico sono aumentati parecchio vi lascerò poi una pagina di differenziale realmo automatico su amazon questo modello che vi faccio vedere oggi a volte si trova in offerta anche a 50 60 euro in meno quindi piuttosto teneteli d'occhio perché potrebbe capitare l'occasione bando alle ciance adesso vi faccio vedere quando lo spacchettate cosa vi arriva e poi proviamo a montarlo nel quadro ok questo ad esempio è un riarmo automatico da 25 ampere della schneider electric bene voi trovate dentro un dispositivo del genere raccomandazioni del caso perché noi dobbiamo fare in modo che il riarmo automatico non sia attivo in caso di manutenzione perché se qualcuno tira giù il differenziale per fare manutenzione chiaramente non si deve riarmare da solo allora guardiamolo un attimo qui abbiamo un classico differenziale da due moduli ok 25 ampere 30 mili ampere classico assolutamente obbligatorio in un'abitazione civile come protezione principale perché la scarica elettrica tollerata dal corpo umano non deve mai andare oltre i 30 mili ampere i 300 mili ampere montati dentro l'abitazione non sono consentiti qui abbiamo il classico bottone per riarmarlo e il test test come se fosse un salvavita normalissimo che potrebbe essere questo questo ad esempio è più grosso prende più moduli è un modello un po più vecchio perché appunto è un magnetotermico differenziale ho preso apposta questo come esempio per spiegarvi che c'è la parte magnetotermica quindi c6 c16 c10 c25 quello che sia e la parte differenziale quindi con il differenziale da 30 mili ampere una volta ma ancora adesso questi moduli si assemblano quindi si compra il magnetotermico che si collega meccanicamente al differenziale in pratica qui dentro c'è un collegamento meccanico con un pernetto d'acciaio che quando scatta il differenziale porta giù anche il magnetotermico questo è il sistema di un magnetotermico più differenziale notate bene qua sulla finestra che c'è scritto 10 o auto on la procedura da fare per metterlo in opera è tirare su questo altrimenti non si chiude chiudere lo sportello per fare in modo che non si riarmi da solo vi faccio poi vedere quando è montato lui ha poi ancora da collegare diciamo questi fili accessori che funzionano in questo modo dunque lui deve essere collegato con fase neutro a monte dove vi arriva la linea del contatore perché il modulo del riarmo quando scatta il differenziale ovviamente deve essere alimentato per poter funzionare e qui sotto questi due fili che non hanno importanza di polarità infatti sono tutti due bianchi vanno collegati su fase neutro in uscita perché quando lui non sentirà più la tensione in uscita farà in modo che la parte interna del circuito attivi l'elettromagnete che tira su di nuovo il differenziale qui ad esempio insieme abbiamo tutte le istruzioni del caso e qua c'è la procedura che dicevo prima per metterlo in sicurezza in pratica bisogna aprire lo sportello tirare giù su off vedete che lui diventa off e in questo caso il riarmo automatico non funziona più diventa verde vuol dire che possiamo operare perché lui non si tirerà su da solo vedete che qua c'è uno switch meccanico che viene premuto senza questo premuto siamo in sicurezza è semplice ma funzionale ci sono due tipi di test allora il primo test per vedere se funziona il differenziale quindi con il dispositivo armato bisogna tirare su premere l'interruttore vedere che scatti e ovviamente non si deve riarmare perché aperto poi c'è la seconda versione del test che è quella del riarmo con il differenziale armato lo sportello chiuso tramite questa fessura con un cacciavite lo facciamo scattare e dobbiamo vedere che si riarmi ci fa vedere come attivarlo e come disattivarlo che abbiamo già visto prima poi qua ci fa vedere il funzionamento con il guasto temporaneo questo è lo schema diciamo con la timeline temporale delle varie sequenze dell'automazione dunque col dispositivo armato se c'è un guasto scatta il differenziale poi avviene il riarmo e c'è una segnalazione del led questo qui ma ovviamente il differenziale non deve continuare a riarmare all'infinito perché se il guasto persiste chiaramente il differenziale deve poter fare la sua funzione e metterci in sicurezza abbiamo poi qui la possibilità di scannerizzare un qr code per il manuale di uso e manutenzione ma adesso direi che è arrivato il momento di montarlo in un vero quadro e fare due prove bene come si monta un differenziale riarmo per prima cosa l'unica regola fondamentale da rispettare che bisogna togliere corrente dal contatore probabilmente dopo il contatore avete un altro salvavita protezione del montante o magneto termico dovete essere sicuri di averla tolta a monte quindi sopra al salvavita che andate a sostituire come ve ne accorgete se l'avete tolta semplicemente perché pulsante di testa non deve funzionare vuol dire che non gli arriva corrente a questo punto togliete il coperchio del quadro o se avete un sistema come questo basta togliere semplicemente lo sportello anteriore e andiamo a rimuovere il salvavita per mettere al suo posto esattamente con i fili come erano prima rispettando eventualmente il neutro e la fase collegandoli al nuovo differenziale con riarmo automatico adesso non fate caso a questo quadro dove prima del salvavita ho un altro modulo questo qua il pry cam serve per controllare tutto l'impianto ma sto preparando un video dedicato quindi cosa facciamo dobbiamo semplicemente staccare fase neutro che arrivano in ingresso al salvavita scollegare fase neutro che c'erano in uscita sotto e mettiamo via il salvavita quello che ogni tanto scattava e vi dava i problemi prendiamo il nostro dispositivo con riarmo come vi dicevo prima la parte blu e nera va messa in alto rispettando sempre fase neutro che in questo caso non sono segnati perché è un bipolare lavora sia su fase che su neutro ma potreste anche trovare segnato uno dei due ingressi con il neutro io per comodità metterò la fase a sinistra quindi inserisco la fase e insieme alla fase devo collegare il filo nero che alimenta il riarmo basta metterlo dentro tanto è un filo piccolo mentre stringe il cavo che arriva stringe anche il filo che alimenta il riarmo facciamo la stessa cosa col neutro ok in questo modo abbiamo portato l'alimentazione a monte adesso dobbiamo fare la stessa cosa sotto quindi riappendiamo il salvavita prendiamo le fasi e i neutri che c'erano in uscita se non sono a posto gli date una sistemata magari li spellate li legate in modo che vadano abbastanza bene e anche qua dobbiamo mettere i fili che usa il riarmo per capire se è scattato il differenziale perché gli manca alimentazione da sotto quindi chiudiamo la fase e mettiamo di nuovo anche i neutri mettiamo il secondo filo tiriamo giù la linguetta gialla che c'è sotto con un cacciavite a taglio lui si incastra e noi in questo modo abbiamo montato il nostro riarmo automatico al posto del salvavita tradizionale adesso facciamo due test vado a ridare corrente ok vedete che adesso è verde quindi tutto a posto cosa succede se noi dobbiamo fare manutenzione che tirando su lo sportello come vi ho fatto vedere prima se facciamo scattare manualmente o con il test il differenziale vedete che qua diventa la finestrella verde dice che in off e essendo aperto lo sportello lui non tenterà più di fare il riarmo quindi noi possiamo lavorare in manutenzione fare tutto quello che c'è da fare dopo e siamo sicuri che non si tirerà su automaticamente nel momento in cui noi lo armiamo e chiudiamo lo sportello lui diventa operativo come facciamo a verificare se funziona semplicemente lo facciamo scattare manualmente schiacciando il pulsantino vedete che lui scatta inizia a lampeggiare perché è intervenuto ma lo sportello è chiuso quindi vedete che dopo cinque secondi mi riattiva il differenziale chiaramente se il guasto persiste vedete che alla terza volta la spia rimane rossa non diventa più rossa lampeggiata perché il guasto è persistente lui sa che in questo caso non deve riarmare perché il differenziale sta intervenendo essendoci effettivamente un problema di protezione nell'impianto elettrico da questa condizione non si riarmerà più finché non viene risolto il problema e viene armato a mano nel momento in cui viene riarmato a mano se scatta allora dopo cinque secondi essendo in fase di controllo e di conteggio del tempo lo riarma questo è tutto funziona benissimo questo è il modello con cui io mi trovo molto bene ma ce ne sono molti altri che funzionano bene ma il montaggio avete visto che anche se non potete farlo è assolutamente alla portata di tutti bene come avete visto bisogna solo fare attenzione e ve lo ripeto a togliere corrente a monte del vostro salvavita piuttosto nel dubbio tirate giù il contatore siete sicuri che non ce l'avete da nessuna parte quello che entra lo rimettete esattamente in ingresso insieme ai due fili blu e nero e in uscita collegate gli altri due insieme a tutti quelli che c'erano già fine può essere un'occasione magari per sistemare i cavi in uscita se ne avete tanti insieme li spelate li mettete per bene li legate con del nastro magari gli mettete due fascette non vi dico di mettere puntalini ma se volete usare puntalini avevo fatto un video opposta per i puntalini è il gioco è fatto il differenziale di armi automatico chiaramente ha un senso quando scatta per cause esterne o per condizioni particolari come avete visto se il guasto persiste lui non rialma più e dovete fare intervenire un elettricista per capire quale problema avete nell'impianto spero che il video vi sia piaciuto un bel like qua sotto sempre lo ricordo noi ci vediamo il prossimo video prossima diretta o se passate in provincia di torino mi trovate il negozio vi offre un caffè facciamo due parole ciao da massilattoli grazie a tutti